Il dottor Gottardo Personeni per la prima volta ci concede un'intervista e ci permette di poter raccontare la sua vita e lo faremo questa sera a Decoder, la trasmissione che va in onda questa sera. Ma lei intanto, in breve, ci riassume qualche momento della sua vita? Niente, la mia vita è un percorso molto lungo e non è facile riassumerla. Comunque, io mi ritengo un privilegiato, nel senso di aver avuto, dalla sorte, di aver avuto la possibilità di svolgere le mie attività, sia quando ero giovane, sia da persona che, avendo fatto l'esperienza di guerra, è riuscita a uscirne senza troppi danni e soprattutto di aver potuto svolgere le mie attività per lungo tempo in Clusone, sia per quanto riguarda la mia famiglia, sia per quanto riguarda la comunità, alla quale sono molto legato e al quale Paese di Clusone, le mie origini, a cui devo tutto, li lasciano sempre in una condizione di essere pronto ad affrontare qualsiasi momento, anche quello difficile. Chiaramente ha vissuto la guerra, è stato prigioniero. Sì, sono stato prigioniero di guerra, sono invalido di guerra, come cittadino ho svolto la mia professione, ho partecipato alle vicende della cosa pubblica di Clusone, cercando di fare il meglio delle mie possibilità nel bene del nostro Paese. Grazie.